buongiorno a tutti allora concludiamo le scrine bollettine del gigione con i possibili giocatori che tireranno almeno una volta in porta partendo da milan sandoria allora per milan sandoria ho scelto per il milan ernandez cialanoglu e per la sandoria silva e tosby come vedete non ho scelto dei giocatori proprio proprio super attaccanti ecco buone probabilità eccetera eccetera seconda partita atalanta udinese per atalanta udinese ho scelto pessina e freuler per l'atalanta zegelar e perera per l'udinese ripeto giocatori che tireranno almeno una volta in porta proseguiamo con benevento parma e ho scelto etemai e schiattarella per il benevento cucca e brookman per il parma proseguiamo con cagliari verona per quanto riguarda cagliari verona come sempre scelgo nandez marin o marin e per il verona dico di marco e tameze veniamo a genoa fiorentina la partita che mi puzza di biscottone per il genoa dico zaec e badeli per la fiorentina pulgar e buonaventura veniamo a lazio spezia per la lazio come possibili giocatori che tireranno almeno una volta in porta ho scelto leva e perera e per lo spezia ho scelto ricci e maggiore proseguiamo con napoli crotone che sarà probabilmente una partita in cui i giocatori si sbizzarriranno a tirare in porta sia da una parte che dall'altra perché non do per scontato che il crotone vada napoli e stia lì a fare curucu farà la sua onesta partita probabilmente perderà però venderà come si suol dire cara alla pelle quindi per quanto riguarda i titanatori per il napoli scelgo politano e zielinski e per il crotone messias e wulic ripeto giocatori che tireranno almeno una volta in porta proseguiamo con sassuolo roma per il sassuolo ho scelto magnonelli e traore come giocatori che tireranno almeno una volta in porta e per la roma diavara e pellegrini proseguiamo con il derby della mole per quanto riguarda torino juve ho scelto mandragora e baselli per il torino come giocatori che tireranno almeno una volta in porta e per la juve dico ramsay e danilo anche perché danilo ogni tanto si inventa anche i tiri da casa sua e segna è già successo concludiamo con la partitona della mia inter bologna inter per il bologna ho scelto dax ma la butto proprio lì così dax è buttata proprio lì l'ho visto no nella nella formazione ho visto dax e ho detto ma vediamo se questo dax proverà il tiro in porta magari anche un passaggio così però basta che c'entri lo specchio della porta che andanovic o radu perché non si sa ancora dovrebbe giocare andanovic però non è non decideranno all'ultimo quindi per il bologna dax e dominguez e per l'inter hachimi e barella bene il tour de force per questa settimana è concluso domani vi farò naturalmente il video che riguarda la moto gp perché dovrebbe esserci la gara di moto gp se non sbaglio devo controllare ma so che ci sono i motori anche questa settimana non ricordo se sono dovrebbe essere la moto gp comunque perché poi la formula 1 va settimana prossima e mi auguro che non ci sia anche la moto gp se no sclero moto gp formula 1 campionato schedine bollettine eccetera eccetera e c'ho anche i criceti che sono lenti come come una quaresima ecco visto che stiamo per da appena finita la la quaresima e si si è appena finita la quaresima poi si entra in pentecoste giusto 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 perché c'è la assunzione appunto se non sbaglio è che adesso magari sto facendo anche confusione ma comunque la quaresima è no mi sa che dopo va bene quello che sarà sarà ragazzoli anche ogni tanto sono fuso e quindi capita detto questo vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima adesso controllerò quare la questione quaresima e anche la questione del ser moto gp o formula 1 però mi sembra sia la moto gp sì perché ne abbiamo anche parlato per la questione che appunto il buon market saltava già due gare ci vediamo alla prossima ciao